forse molti non hanno colto la reale portata al di là del clinic tecnico che può essere magari una felice consuetudine e alla quale però è sarebbe opportuno che la come categoria cominciassimo a partecipare in maniera più consistente anche numericamente credo che dal dialogo non possano che nascere dei miglioramenti per noi per capire anche quelle che sono quelli che sono i dettami che i nostri arbitri hanno dai loro responsabili e per conoscere insieme maggiormente il gioco in ogni sua componente sfaccettatura. Ricordavo ai partecipanti oggi all'inizio della mia chiacchierata con loro il fatto che ai miei tempi con i clinic dove eravamo in 100 o più di 100 al di là delle lezioni c'era proprio il piacere di confrontarsi di raccontarsi l'annata di raccontarsi esperienze e dalla condivisione delle idee ovviamente nascono miglioramenti per tutti. Oggi le tecnologie ci aiutano in certi momenti però là dove possiamo essere presenti di persone credo sia doveroso non chiamarsi fuori.